Buonasera e bentrovati con questo nuovo appuntamento di Tg7 Basilicata. Passiamo alle notizie. Un traffico illecito di rifiuti tessili è stato scoperto dagli uomini del comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli. I militari hanno individuato un'illecita attività di recupero e trattamento di rifiuti tessili usati, privi di igienizzazione e sanificazione. Le fiamme gialle della compagnia di Portici hanno sottoposto a sequestro nel comune di Ercolano un locale di circa 110 metri quadrati, oltre tre tonnellate di rifiuti tessili non sanificati, scarti di lavorazione e varie attrezzature da lavoro per rigenerare capi di abbigliamento. La titolare di un ingrosso di abbigliamento e accessori riconfezionava e imbustava con nuova etichetta i beni commercializzandoli come nuovi. La responsabile, una 39enne di Ercolano, è stata denunciata per frode in commercio e per violazione al testo unico sull'ambiente. Chiuse le indagini della Procura di Potenza sulla morte di Antonio Nicastro, giornalista potentino e Palmiro Parisi, imprenditore, entrambi deceduti a causa del Covid nell'aprile 2020, dopo aver atteso per molti giorni un tampone arrivato quando ormai era troppo tardi. Sono dieci le persone indagate, il direttore sanitario dell'ASP Luigi D'Angola e Michele De Lisa, direttore dell'unità operativa di igiene pubblica, oltre ad alcuni medici e infermieri del pronto soccorso del 118. Secondo la Procura di Potenza ci sarebbero state negligenze da parte dell'ASP e dell'ospedale San Carlo. Parliamo ancora di emergenza sanitaria e nella giornata di ieri sono stati processati 6.334 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 1.072 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono avute 819 guarigioni. Registrati inoltre due nuovi decessi di persone residenti in Basilicata, una a Potenza e l'altra a Lavello, oltre a un altro decesso di persona residente a Caprarica di Lecce. Parliamo del meteo di domani, giovedì 3 febbraio, prosegue la fase stabile con nubi sparse alternate ad ampi spazi soleggiati grazie al rinforzo dell'anticiclone. Temperature stabili. Grazie a tutti e al prossimo appuntamento con TG7 Basilicata. Grazie a tutti.